Non mi ha capito? Niente risposta! Aspetta, guarda il tempo! Vado a me, il caldo! Ho tutti gli accidenti immaginabili possibili di più! Io ho pulito! I caldo! Guarda! Vado a pulito! Vado a me! Guarda! Al Mampol siamo qui, a me, il cimitero! Un melo! Un melo! Anche a me ho avuto il problema! Ho cercato di risolvere il problema! Non c'è un problema! Perché ho sempre sentito lì, per televisione! Perché ci sono le macchine! Guarda! Guarda! Sono sempre lì, per televisione! via caldo! Via caldo! Allora, io ho detto! Adesso trovo il via caldo! Per far andare via i caldo! Allora, che con te? Mi sono messa con una bacinella davanti alla televisione, dentro al via caldo, poi mi sono anche dormita davanti alla televisione! Quando sono da sede, i caldo non c'era più! Non c'era più niente la pella! Sì! Guarda! 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 Ma che ora è adesso? Ho le queste di sora! Oh! Ma la terza! Ehm! ma bisogna che venga qua perchè se a me stai in punto anche a me dal piatto dell'amnesto insieme alla tebla me maria va in bese al va in bese povera dal devader dal devader perchè va in tato quesito rigido e bisogna che stai capiti perchè se ha il problema di stai operando se al cuore non lo sapeva mica me no no i gamin sapeva che dè che no e non bisogna che anche a me ha messo l'uomo per te e perchè l'uomo ha detto che anche a me, anzi anche a nostra, non fa più sesso perchè non si fa più sesso beh, non si fa più sesso, non si fa più sesso, non si fa più sesso se ha avuto il coraggio a dire mentre te guarda, adesso non è ancora la vita, guarda se ha morto prima te insieme alla tua tomba a fare a scrivere qui giace mia moglie, fredda come sempre beh, non è la mia risposta, beh ciccio, eh? se vuoi sapere che se morto prima te messa che a scrivere sei nella tua tomba se, ma che a scrivere qui giace mio marito, finalmente rigido breve se, quando accolta se, quando accolta se, quando accolta se, un po' anche stoppa se ti riusciamo per dire chi la vuole se, ascolta, se mi hai fatto per te se ti fa? a sondetta dal dottor a godetta se, signor dottore, sono venuta a prendere il Viagra per mio marito uuuuuh ma che ti vuole il coraggio a dire? se, se, ha glodetto l'ha fatta genialo però ha glodetto al Viagra se, perché di problema? perché a che orari bisogna tu? a se? a che orari bisogna tu? a che orari bisogna tu? e ora il dislo? non ci sono mica orari per il Viagra ah no? ah no? ha glodetto bene, allora tutta la mattina cinque messe mia maria vintosa una pastella davvero? no se ci fa con la ghegna se da opera a sempre a sempre opera cominciate presto a fare sesso uuuuuh sesso ma che sesso? ma se dentro il sesso anche dentro il sesso no? ma non dentro il sesso ma non dentro il sesso perché? no, perché adesso ti spiego insieme a te un po' che tempo che mio marito tutta la mattina cinque ore al Valcesso e tutta la mattina non ti ha mai ricalzato e anche per terra ah laura ah laura ah laura io chi sei? ah 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 ma se pensa ma ascolta ah ah ma se me quel Viagra ha la cabeça a fare in moto e sollevare ke il puchineine arrigga sol per fare il mo za il ce entra il bus del cesso ma astica ma ascend che te vè una bella idea propria me la bella idea presenta ma sento cosa lo sesso ma ho esposo viene un vide al Serveure cercano perché è roba Comunque è una bella idea Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Guarda, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ascolta, come l'ho detto. Ascolta, no, prima di dire tu metti questo. Però qua, per... E dimondi che te ne avessi l'ermelinda. L'ermelinda chi era? Ah, cos'era la moglie di Prasù qui che li doccano, no? Poverta, poverta, guarda, poverta. Adesso, insomma, anche me là, la sta abbastanza bene adesso. Ma, le stai da tre mesi in ospedale. Dabà, eh? Tre mesi in ospedale, guarda, sì. Ma devi sapere che tre mesi fa, me l'ho incontrata e cacciapevo il filobus. Sì. E mentre era sul filobus, allora c'è meda. Lei l'ha detto, avessi la strada, la sei fermata e l'ha detto, ciao Elide, ciao Ermelinda. Sì, sì. Calmente il clave dice che sei passato una macchina. E la ci entrèdem, fì, tre mesi d'ospedale. I no, 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 no. Tre mesi, guarda. Le tardè lo incontrèdem, sàmma? L'està l'amell. Sàmma, em sembra che la stava, la stava un po' mella, che la va col bastao. Beh, sàm va col bastao. Però col la testa. ah no? si è bella pesa se c'è a me con la testa oh me lo c'è a me, lo c'è a me ha fatto finta da un vedremo se il mio traffic vediamo te come fanno attraversare se c'è a me non sono ben stufida a vaga qua ma vaga qua anche a me se c'è a tornare a me va bene, a tornare a me mandemola che è tutto grazie